E' la giovane pasticcera veneta Ludovica Faiotto, la vincitrice della settima edizione del contest Un dolce per San Gennaro, promosso dalla storica azienda Mulino Caputo. 26 anni, titolare assieme al maestro Denis Dianin della omonima pasticceria di Selvazzano in provincia di Padova, porta a casa un premio di 1000 euro, 1000 chili di farina Mulino Caputo e un'enorme soddisfazione per lei che ha dichiarato, emozionata, di sentirsi anche un po' napoletana. La vincitrice ha proposto in finale una frolla classica con croccantino alle mandorle e cremoso di vaniglia, bigneri pieno di gel al mandarino e bavarese allo yogurt con fiori d'arancio, la monoporzione rivestita da una glassa rossa punteggiata da scaie d'oro e petali di fiori. I giurati l'hanno scelta all'unanimità, sedotti dall'equilibrio e dall'eleganza della proposta. Il bistellato chef Gennaro Esposito, tra i giurati del Pestri Contest, si è complimentato con tutti i concorrenti. Geniale dedicare un dolce alla figura di San Gennaro. Queste le sue parole. Il gioco oggi è cercare di dedicare un dolce a questo personaggio enorme, gigantesco dal punto di vista di importanza e quindi è una sfida davvero molto impegnativa. Ci mancava un dolce dedicato a San Gennaro. Questa è un'idea geniale. Un dolce d'allegria con i classici colori di San Gennaro, un concorso che fa emergere a pieno la creatività. Questo è il commento di Antimo Caputo, amministratore delegato dell'azienda. Una conferma di quanto è importante l'artigianalità, questa creatività che noi cerchiamo di tirare fuori, questi maestri della pasticceria. San Gennaro è una grande occasione perché settembre è un momento di ripartenza e un santo importante per Napoli, per l'Italia tutta e quindi noi vogliamo creare e dare uno stimolo a fare sempre meglio ma soprattutto a rendere un'iconografia napoletana fatta arrivare sui tavoli di tutti quanti. Quindi un dolce d'allegria, 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 con i classici colori di San Gennaro che sono il giallo e il rosso.